Finisce per 5 reti a 0 per il Canigatì, l'amichevole che si è giocata domenica pomeriggio all'esseneto con la squadra di casa, l'Olimpica Acragas. Attualmente il Canigatì, formazione dell'ex nostro allenatore Falsone, milita nella parte alta della classifica, nel campionato di eccellenza Girone A. I biancorossi sono al secondo posto in classifica, a un solo punto dalla capolista Licata e sono in finale di Coppa Italia di categoria. La partita alla quale hanno assistito circa 200 spettatori si è disputata in tre tempi da 30 minuti ciascuno. L'Olimpica Acragas è scesa in campo in formazione largamente rimaneggiata per l'assenza di numerosi titolari. Il Canigatì invece si è presentato al gran completo, mister Giovanni Falsone ha schierato parecchi giovani che per un'ora hanno tenuto testa ai quotati avversari. Il primo tempo si è concluso con il vantaggio della formazione ospite grazie alla rete di Polito. I successivi 30 minuti sono terminati senza rete con l'attaccante Sant'Angelo che si è fatto parare anche un calcio di rigore dal portiere Piero Iacono. Nell'ultimo tempo il Canigatì ha schierato la formazione tipo e ha segnato altre quattro reti con Irace che ha fatto una doppietta, Rossello e Caronia. Intanto sabato sera c'è stata una cena per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Presente l'intera rosa di calciatori e lo staff tecnico dell'Olimpica, oltre al presidente Salvatore Bottone, al direttore generale Giuseppe Brunco e Ernesto Russello, che sta dando una grossa mano d'aiuto per rafforzare la squadra e trovare nuovi sponsor al fine di aiutare economicamente il club agragantino. A fine cena Bottone e Brunco hanno lanciato anche dei messaggi importanti alla squadra e ai calciatori presenti, esortandoli a dare il massimo per il raggiungimento degli obiettivi che sono quelli di disputare un ottimo girone di ritorno. Adesso la squadra si riposerà per qualche giorno, ma subito dopo Capodanno si riprenderà la preparazione.